Dunque, io vengo da un settore completamente diverso di quello che può essere il bel vivere e la qualità della vita, perché faccio il costruttore da sempre e mi sento costruttore. Cioè costruttore di case, ma nello stesso tempo anche di emozioni, perché le case possono essere emozioni normalmente. È un lavoro abbastanza duro, perché a Milano lo chiamano il Magut. Nello stesso tempo però poi abbiamo l'architetto, abbiamo l'ingegnere, abbiamo tutta una serie di persone che legano, che intervengono in questa situazione per smussare e per dare il meglio di quello che può essere il risultato di un prodotto, di una costruzione. Io dopo diversi anni di lavoro, non molti per la verità, una decina d'anni, mi sono sentito di aver risolto il problema della mia vita, perché sono partito senza denaro e quindi quello è il problema di una persona, penso. Mi sono messo a fare altro, ho cercato di fare altro e nel pensare di fare altro ho pensato di fare dei prodotti che dessero delle emozioni e che lasciassero comunque un ricordo nelle persone che ne usufruiscono. Quindi nel 77 feci la bella vista che come prima azienda era un mio hobby e quindi doveva essere un'azienda di emozioni piene facendo un prodotto di altissima qualità e cercando di dare agli amici e a chi poteva usufruire di questo prodotto l'emozione più alta di quello che potrebbe essere un vino della Franciacorta, credendo naturalmente con grande forza nel territorio e in quello che era la mia terra, in quello che erano le potenzialità della mia terra. Io continuo a dire che soprattutto nel mondo del vino, ma anche penso nel mondo dei prodotti, non c'è limite alla ricerca e non c'è limite al risultato eccellente che i prodotti possono dare. Quindi la nostra strada è sempre stata quella di cercare il massimo per dare emozioni. Poi io sono un imprenditore quindi mi sento imprenditore, ho fatto la mia infanzia a Milano quindi ho cercato di capire e penso di aver capito anche come ci si muove e ho pensato che il mio prodotto non bastava che desse delle emozioni che fosse bevuto ma che dovesse diventare un marchio e per diventare un marchio legato al territorio bisognava creare un territorio. Quindi abbiamo pensato a quello facendo in Franciacorta la prima operazione importante, il golf di Franciacorta che abbiamo realizzato è stata diciamo l'innesco della conoscenza di questo territorio in un certo tipo di mondo e soprattutto nel mondo del lusso. Lusso inteso sotto un concetto molto particolare che è il mio, che non è quello di esagerare ma è quello di avere le cose che ti danno emozioni e che ti lasciano un segno e che ti fanno contento. Cioè che quando la sera vai a casa ti senti contento di aver vissuto una giornata stupenda e di aver lavorato e di essere contento, di esserti soddisfatto di quello che hai fatto e dei prodotti che hai usufruito in quella giornata. Quindi io ritengo che il lusso vero sia quello, non l'esagerazione e neanche lo spreco. Quindi facciamo il golf di Franciacorta che innescò questo processo in Franciacorta. Dopodiché andai diverse volte in Champagne e vedi le realtà dello Champagne e capì che per fare un territorio servivano anche le strutture più legate a quello che è il prodotto. Vero e proprio. Quindi pensai a un albergo importante, naturalmente con una cucina importante. Per caso mi trovai con Marchesi, ero da Marchesi con Gianni Brera che era un mio caro amico, parlandone e dice ma io voglio andare via da Milano. Io sto facendo un albergo in Franciacorta, non so se ti può interessare. Marchesi venne lì e dopo tre giorni avevamo concluso l'uso che sarebbe venuto in Franciacorta. Quindi giusto penso che sia il fatto di trovarsi nel momento giusto, nel posto giusto. E quindi è capitato e Marchesi venne in Franciacorta e si fece l'alberetta che è un albergo di charme, un albergo che dà sensazioni, che lascia un segno a chi ne usufruisce, che dà la possibilità di mangiare bene, di bere bene e poi anche di fare dei massaggi, cioè di avere un relax completo servendosi della spa che conduce e anche con Enric Chenot. Anche con Enric Chenot è stato un rapporto molto semplice perché non è personaggio facile. Ci siamo trovati, una reciproca simpatia è nata in un minuto e quando gli feci vedere il posto, perché mia figlia Carmen continuava, voleva fare assolutamente l'alberetta, cioè la spa, io ne ero un po' contrario perché so benissimo poi i risultati economici come sono. E quindi troviamo Chenot così, Chenot decise di venire e si fece la spa. Una spa naturalmente di livello molto ricercato nei prodotti e negli spazi, cercando di dare il massimo del comfort e soprattutto di fare in modo, come l'albergo stesso dà al cliente, la piacevolezza di essere in una casa, di essere alla propria casa e quindi di trovarsi bene, di sentire proprio questo calore che ti dà la tua casa quando la vivi nei momenti più belli e quando nella casa c'è la vita, la vita vera. Quindi l'alberetta dà queste sensazioni. Henri Chenot è entusiasta di questo perché ha variato un po' il suo target che naturalmente a Merano è un po' clinica, qui invece è casa con i massaggi, con tutto quello che serve per dare del piacere al corpo. Per far dirvi una cosa, l'altra sera ho incontrato Oliviero Toscani che fra l'altro è un mio caro amico, era un anno e mezzo che non veniva in alberetta. È stato sette giorni e dice sono diminuito sette chili, la solita storia che serve a poco se vogliamo. Però mi dice io mi trovo benissimo, ho recuperato un sacco di forza perché anche lui quest'anno un anno meno di me, quindi sono sei sei, sei sette per me, sei sei per lui e dice ma mi sento un ragazzino dopo sette giorni, mi trovo benissimo e sto godendo veramente queste giornate alla grande che fra l'altro poi lui usufruisce dell'alberetta la mattina e nel pomeriggio lavora, viene a Milano, fa le sue cose e rientra poi la sera. Comunque il discorso di base secondo me è quello che un uomo nella vita quando è riuscito a risolvere i suoi problemi deve assolutamente fare quello che si sente di fare e quello che le dà le sensazioni giuste per sentirsi vivo al mondo e per fare in modo che quelli che lo circondano e le amicizie siano sempre grandi e siano sempre al massimo livello, che diano la possibilità alle persone di vivere questa vita bene e soprattutto di goderla, goderla nel vero senso della parola. Vi ringrazio. Grazie Vittorio.